Spirito Santo, tu sai quanto abbiamo bisogno di preghiera. Fa che capiamo l'urgenza di capire di più la preghiera e che scopriamo i mali della nostra preghiera. E con il cuore rispondete, vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu sai che preghiamo tanto poco, che preghiamo tanto male e che tanti non pregano. Aiuta la nostra scuola di preghiera. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, la nostra volontà è tanto debole, toccala. Portaci a scoprire la bellezza della preghiera, la grandezza della preghiera, la gioia della preghiera. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, manifestati con potenza nella mia debolezza. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, che il mio orgoglio non impedisca la tua luce. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, voglio essere strumento della tua gloria, strumento della tua luce. Rendimi umile nei pensieri, nelle parole e nel cuore. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu sai che la nostra volontà è tanto debole. Aiutaci a capire la preghiera e a essere costanti. Nel cuore rispondete, vieni Spirito Santo. Fatelo con me. Spirito Santo, che questa trasmissione dia forza a qualche ammalato, dia conforto a qualche persona che soffre, dia luce a qualcuno che è nel buio. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, donaci una comprensione viva della potenza della preghiera per la nostra vita. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, manifestati con potenza nella mia debolezza. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, voglio essere strumento della tua gloria, strumento della tua luce. Rendimi umile nei pensieri, nelle parole, nel cuore. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito d'amore, facci comprendere che pregare significa amare e che amare significa compiere con fedeltà e con serenità la volontà di Dio. Dite con me, col cuore, vieni Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito di verità, aiutami a fare la verità nella mia preghiera. Aiutami a vedere i mali della mia preghiera. Aiutami a trovare i rimedi a questi mali. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito di fortezza, aiutami a stabilire una norma precisa per la mia vita di preghiera. A fissare il tempo, il luogo, il metodo di preghiera. Portami alla preghiera di silenzio, alla preghiera del cuore. Vieni Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, donaci l'amore dello Spirito Santo. Ecco, ripetetelo. Padre, donaci nel nome di Gesù la gioia dello Spirito Santo. Padre, donaci nel nome di Gesù la pace dello Spirito Santo. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù la pazienza dello Spirito Santo. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù l'umiltà dello Spirito Santo. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù la fedeltà dello Spirito Santo. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù la pazienza dello Spirito Santo. Ti chiediamo il dominio di noi stessi. O Maria Santissima, tu sei giunta ai più alti gradi della preghiera. Aiuta la nostra debolezza. Aiutaci a capire di più e a fare di più nella preghiera.